I numeri sono ancora da zona bianca, guai però a sottovalutare la crescita degli ultimi giorni perché al netto dell'altalena dei casi, un dato è certo, negli ultimi sette giorni in provincia di Lecco il numero di nuovi contagi da coronavirus è cresciuto del 43%, una curva che non si vedeva da mesi e che deve far riflettere sebbene la nostra provincia abbia il tasso di vaccinazione più alto in Lombardia, oltre il 94% della popolazione. All'ospedale Manzoni, inoltre, sono ricoverati oggi 25 pazienti col covid, due dei quali gravi ma non in terapia intensiva. La scorsa settimana erano 17. Altro parametro da ottenere sott'occhio è l'incidenza, vale a dire il numero di nuovi casi positivi ogni 100.000 abitanti. Il 15 novembre erano 43, 21 sono diventati 60. Restano per ora sotto controllo i tassi di occupazione spedaliere delle terapie intensive. La crescita dei contagi è evidente anche nelle analisi del dottor Paolo Spada, medico dell'Humanitas di Milano che dall'inizio della pandemia monitora l'andamento della diffusione del virus sulla base dei dati forniti dal Ministero della Salute nel suo blog Il Segnalatore. Con ogni evidenza si legge laddove minore l'adesione vaccinale, più intensa la curva, gli ospedali si riempiono, rimonta la bufera pandemica. Se qualcosa ci sta proteggendo rispetto al resto d'Europa, conclude Spada, sono i punti percentuali in più di vaccinazione, anzi quelli in meno di non vaccinati. Fra questi, oltre a coloro che si oppongono al vaccino, ci sono anche, lo ricordiamo, i bambini fino a 12 anni. Al di là delle considerazioni, è innegabile il ruolo che i vaccini abbiano avuto nel contenere i casi gravi. Da oggi tutti gli over 40 che hanno completato da più di sei mesi il ciclo possono ottenere la terza dose. L'incognita per i lecchesi sarà piuttosto il luogo dove la riceveranno. Dopo l'hub della Tecnoprob in Brianza, a fine anno dovrebbe chiudere anche il centro vaccinale del Palataurus. Alla spicciolata i comuni si stanno portando avanti in collaborazione con le farmacie. A Bellano, ad esempio, i residenti possono vaccinarsi alla Casa della Salute. Non basta, ma innegabilmente aiuta.